Musica Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. Sono stati giorni di festa ma anche di controlli serrati da parte delle forze dell'ordine. Vediamo il servizio. Controlli a tappeto a Pasqua e Pasquetta da parte dei carabinieri nell'Aretino. Un servizio straordinario di controllo del territorio che ha visto impegnate numerose pattuglie tra quelle del nucleo operativo radiomobile e quelle delle stazioni dipendenti. In questi due giorni di festa sono state così sette le persone denunciate per guida in stato di ebrezza. Si tratta di uomini tutti originari di Arezzo e provincia tra i 30 e i 45 anni per i quali controllati al volante delle proprie auto è stato accertato che fossero in evidente stato di alterazione psicofisica per aver alzato decisamente troppo il gomito. Ne guai anche un 34enne residente in provincia di Siena controllato a piedi in stato di ebrezza all'esterno di un noto locale notturno di Arezzo. Per lui è stato disposto il provvedimento di allontanamento previsto dal DASP urbano. Sono state infine elevate 15 contravezioni per la violazione del codice stradale di cui due per la mancata copertura assicurativa obbligatoria con sequestro amministrativo dei veicoli. Nel Cortonese invece sono state rubate attrezzature da picnic sul Monte Ginezzo. È successo alla vigilia di Pasqua quando i ladri hanno portato via tutti gli arredi pubblici che erano stati installati qualche anno fa. La presidente della comunità montana cortonese ha lanciato un appello affinché gli arredi vengano restituiti. E' stata poi presentata denuncia ai carabinieri. Ed è stato invece reintracciato ad Arezzo uno dei responsabili del furto messo a segno circa due mesi fa in una tabaccheria di Monte Regioni. Il bottino fu di circa 10.000 euro. E' stata la polizia di Stato a riuscire ad individuare uno dei componenti della banda. Si tratta di una palermitano 42enne che vive in Valdarno. Fondamentale la visione dei filmati registrati dalle telecamere di video sorveglianza. Adesso proseguono le indagini per risalire all'identità degli altri due complici. E la polizia di Stato celebra domani ad Arezzo il 171esimo anniversario della Fondazione. L'appuntamento è al Teatro Petrarca dove il questore Maria Luisa Di Lorenzo premierà gli agenti che si sono distinti a livello operativo. Sarà anche l'occasione per tracciare un bilancio dell'ultimo anno nel corso del quale sono state 184 le persone arrestate ed invece 911 quelle denunciate. Voltiamo pagina. Fa molto parlare in questi giorni la storia del piccolo Enea lasciato dalla mamma nella culla per la vita il giorno di Pasqua. Questo è un servizio a disposizione dei genitori che non se la sentono di tenere con sé i loro bimbi. Non tutti sanno però che è possibile anche partorire in ospedale, in anonimato e in piena sicurezza. È possibile farlo anche ad Arezzo. È una scelta di dolore, di sofferenza però anche di grande amore perché dà comunque una possibilità di vita al proprio figlio. Partorire in anonimato ma soprattutto in piena sicurezza per le madri e per i bambini si può in Toscana da ben 24 anni e infatti attivo il servizio mamma segreta. Significa che al momento del parto la donna viene assistita con tutela nei confronti della riservatezza, delle informazioni, anche con tutela nei comportamenti degli operatori. Un servizio ancora poco conosciuto ma più che mai attuale dopo l'episodio del piccolo Enea lasciato dalla mamma nella culla per la vita all'esterno della clinica Mangiavacchi di Milano nel giorno di Pasqua. La donna si può presentare al momento del parto e può dichiararlo prima o dopo il parto stesso o la donna altrimenti si può rivolgere a persone che la possono accompagnare in un percorso anche di gravidanza e accompagnare poi al momento del parto e anche dopo con un supporto psicologico. Un percorso adesso rafforzato ed aggiornato dalla campagna di sensibilizzazione ed ascolto Non abbandonarlo, parla con noi, alla possibilità per gli adottati di conoscere in futuro un pezzo della propria storia. Fino a poco tempo fa la mamma aveva diritto all'oblio. Oggi la mamma viene informata che al raggiungimento della maggior età il figlio può chiedere al Tribunale dei minori se la mamma vuole o meno conoscerlo. La mamma però ha sempre la possibilità di dire sì o no. Grazie al progetto Mamma Segreta dal 2022 ad oggi in Toscana sono stati 184 i parti in anonimato. Sono dei casi molto rari però sono casi preziosissimi. Passiamo alla politica. La Giunta ha approvato oggi il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alla ristrutturazione di Piazza Giotto. Un passaggio ulteriore rispetto alla delibera già assunta a dicembre per procedere alla gara di affidamento dei lavori. Il progetto per oltre un milione e mezzo di euro prevede la demolizione dei muretti per l'ampliamento delle aiuole, della fontana e delle pavimentazioni esistenti. La nuova piazza sarà caratterizzata da pavimentazione, lastre di grassa, alberature, un impianto di illuminazione pubblica. Il progetto infine prevede l'intervento di ampliamento dell'attuale sacrato del Sacro Cuore. E ancora politica. Il Comune di Arezzo ha infatti già lavoro per un'estate di servizi per bambini e famiglie che parte dall'esperienza dello scorso anno ma quest'anno si amplia. Torna infatti Tempo Bello, il portale che mette in contatto associazioni che organizzano esperienze educative estive e famiglie che vogliono dare opportunità ai propri figli. Un portale che vede il Comune selezionare chi offre percorsi ludico-ricreativi. Le associazioni potranno usufruire gratuitamente degli spazi municipali come scuole, parchi e piazze. Il Comune di Arezzo anche quest'anno mette a disposizione buone da 150 euro per tutte le famiglie dentro i 35 mila euro di ISEE. Cambiamo argomento adesso alla Circolo Artistico di Arezzo è arrivata una lettera davvero in attesa firmata da De Carlo Terzo. Dice proprio io, dice ringrazio per questa manifestazione che è stata di grandissimo conforto in questo momento di immenso dolore per la morte della mia amata madre. È una cosa veramente notevole. Una lettera inviata direttamente da Buckingham Palace al presidente del Circolo Artistico Federico Calvelli firmata da Re Carlo Terzo. Il motivo è il ringraziamento per la serata organizzata dal Circolo Artistico lo scorso 12 novembre per rendere omaggio alla regina Elisabetta, una conferenza sui gioielli della corona e poi una cena con i piatti preferiti della sovrana. Questa manifestazione che doveva essere di omaggio alla regina viva è diventata un omaggio alla memoria della regina. Una bella serata che sembrava essere passata inosservata al consolato inglese che era stato informato e con tanto di invito. Invece nelle scorse ore la bella sorpresa. Arriva una lettera da Buckingham Palace, Royal Mail, è una lettera del re Carlo Terzo dove c'è il ringraziamento fervido per questa presenza, dice Carlo, in un momento in cui di grande dolore. È stato veramente gentile, scrive il sovrano da parte vostra, avermi inviato un meraviglioso e generoso messaggio a seguito della morte della mia amata madre. Le vostre toccanti parole mi sono state di enorme conforto e non posso dirvi quanto le abbia apprezzate in questo momento di immenso dolore. E questo ci ha riempito di gioia perché ormai non se l'aspettava più nessuno. L'olio turismo in Toscana è raccontato in uno spot emozionale. Una storia quotidiana che racconta il paesaggio olivicolo toscano e le esperienze legate all'olio extravergine di oliva che si possono vivere nella regione che con questo prodotto di alta qualità è conosciuta in tutto il mondo. Il video che vediamo è stato presentato oggi nella sala delle esposizioni di Palazzo Strozzi a Firenze. Sono 56 attualmente i comuni toscani che hanno aderito alle città dell'olio. E adesso andiamo a Cortona dove questa mattina la diocesi di Arezzo Cortona e Sansepolcro ha presentato al Museo Diocesano il nuovo allestimento. Essere qui per inaugurare un nuovo spazio messo a norma, fruibile, accogliente, attento alle opere che sono conservate perché chi viene a visitare il museo possa davvero godere e gustare quello che qui si incontra. E qui il Signorelli, quindi una figura che è particolarmente cara. Credo che sia un dono che si vuole fare e che potrà essere molto apprezzato. Un'intera sala dedicata a Luca Signorelli all'interno del Museo Diocesano di Cortona è stata inaugurata nella città etrusca in occasione dei festeggiamenti e delle iniziative per il cinquecentenario dalla morte del pittore. Luca Signorelli è la grazia della invenzione, una collezione che consta di ben 11 opere che erano già conservate in questo museo ormai da cento anni ma adesso grazie dei lavori di ristrutturazione ad una migliore illuminazione le opere saranno leggibili in una maniera decisamente migliore dai visitatori. In fondo di fronte a un'opera d'arte c'è bisogno di poter sostare apprezzando in un ambiente gradevole tutto quello che l'opera trasmette. Le opere parlano ma se l'ambiente non consente di sostare, di poter godere di ciò che abbiamo davanti il messaggio viene spento, viene mortificato. Con la realizzazione di questa sala che raccoglie queste opere e ripeto in un ambiente adeguato a ciò che viene proposto consente di sostare, godere queste opere e raccogliere il loro messaggio. A Castiglion Fiorentino invece sarà restaurata l'opera Crocifissione di Michelangelo Tizzi grazie all'Art Bonus, l'incentivo fiscale a sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale pubblico italiano. Il dipinto, un olio su tela datato 1616, è uno dei più illustri della pittore castiglionese. Attualmente è stato esposto alla chiesa delle Santucce, nei prossimi giorni invece sarà trasferito in un'altra chiesa, in quella di Sant'Angelo Alcassero, dove resterà visitabile per tutta la stagione estiva sino al restauro. In città d'Arezzo invece nella cappella della Madonna del Conforto è stato un lunedì dell'Angelo caratterizzato dalla musica in occasione dei 25 anni del Serra Club di Arezzo. Lunedì dell'Angelo con un concerto di brani del repertorio sacro nella cappella della Madonna del Conforto ad Arezzo. Il Serra Club, un movimento internazionale legale al servizio della Chiesa Cattolica in occasione dei 25 anni della fondazione, ha infatti deciso di festeggiare con la musica con un concerto di due interpreti internazionali e il soprano Francesca Martini accompagnata al violino di Alexis Rousseau. Devo dire che in particolare la cappella della Madonna del Conforto dove ho proprio cantato la mia prima aria ed era un matrimonio quando ancora ero studente quindi c'è un legame particolarmente forte e soprattutto il programma che presenteremo dà molto spazio alla parte dedicata alla Madonna. Ha deciso di presentarci la Sarabanda ed altri brani dalla seconda suonata di Bach ed è molto contento di poter riproporre oggi i suoni particolari e le melodie che questo grande autore porta con sé. Nel corso della serata sono state infine raccolte offerte da devolvere al progetto del Club Serra destinato alla rinascita di Aleppo. Tre giornate di musica, spettacoli e gastronomia per la prima edizione del Beltane Celtic Festival il Castello dei Sorci di Angliari ospiterà la manifestazione dal 29 aprile al 1 maggio con un ricco programma con oltre 70 iniziative rivolte a tutte le età di ingresso gratuito che promosse dall'Associazione Cerchio delle Antiche Vie permetteranno di vivere un suggestivo viaggio tra le atmosfere e le tradizioni dei popoli celti. Cambiamo argomento, il 2023 ormai è noto è l'anno del centenario dell'Arezzo ma anche quello del sessantesimo delle farmacie comunali aretine. Queste due realtà hanno così unito le forze per una bella sorpresa ai nuovi nati. C'è scritto quando sarai grande potrai decidere su quali colori ti faranno battere forte il cuore noi intanto ti aspettiamo allo stadio comunale per ti fare insieme l'Arezzo. Un kit amaranto per tutti i nati nel 2023 Cicogna Amaranto è infatti il nome del progetto ideato per il centenario dell'Arezzo Calcio e il sessantesimo delle farmacie comunali per festeggiare il comune anniversario. I genitori dei bambini e delle bambine nate tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2023 potranno recarsi in farmacie e ritirare una sacca con il logo dell'iniziativa una maglietta con il logo del centenario e alcuni prodotti per la prima infanzia. La distribuzione dei kit prenderà il via da lunedì 17 aprile nelle farmacie Campodimarte, Giotto e Fiorentina. In questa iniziativa si vanno un po' a festeggiare due compleanni, quelli dei 60 anni delle farmacie comunali insieme a quello del centenario. Allo stesso tempo si dà un imprinting a quello che è il nuovo nascito e soprattutto si cerca di dare anche qualche maggiore impulso a quelli che sono gli ultimi due, perché guardando quel 2022 i dati delle nuove nascite sono il dato più basso in assoluto tutti i nati nel 2023 quindi i genitori dei nati nel 2023 potranno presentarsi dal lunedì prossimo che è il 18? 18? quindi dal lunedì 17 presso la farmacia 1 che è quella di Campodimarte la centrale la farmacia 3 che è quella di via De Giotto e la farmacia 4 che è la nuova farmacia di via Fiorentina con un certificato di nascita rilasciato dal comune di Arezzo che è facilmente ripetibile anche online insomma non ci vuole tanto e riceveranno un cadeau come si diceva prima quindi questa bag si dice così con dentro una magliettina dell'Arezzo Calcio e dei prodotti per l'infanzia messi a disposizione appunto dalle farmacie comunali ti fare una squadra ok sono di Arezzo tifo la squadra della mia città il tifoso è l'anima del calcio o dello sport in generale però il tifoso diciamo vede un po' col barocchio io voglio vincere il tifo la mia squadra il senso di appartenenza è qualcosa di più profondo perché io posso tifare posso tifare per varie regioni ma sentirsi parte di un qualcosa è qualcosa di più quindi in questo caso partendo dai bambini dai neonati perché qui si parla appunto delle cicogne amaranti quindi proprio i neonati e di conseguenza le famiglie crea senso di appartenenza passiamo al calcio giocato domenica alle 15 si gioca a Rezzo Pianese con una vittoria a Yamaranto matematicamente passerebbero in Serie C l'obiettivo è dunque quello di battere il record di presenze stagionali in occasione del derby con Ila Livorno lo scorso 6 novembre si registrarono 4.501 spettatori dunque tra cinque giorni vista l'importanza della sfida si potrebbe arrivare a quei livelli se non andare forse un po' più su passiamo adesso alla Juniores la Rezzo Football Academy è campione regionale e stacca il pass per giocare nella prossima stagione nella Serie Elite grazie ad una vittoria per 3-1 lo scorso venerdì maturata al Villaggio Amaranto i ragazzi allenati da mister Luca Magnanenzi hanno ottenuto la matematica certezza di aver vinta due giornate dal termine il girone e del torneo Juniores regionale sono infatti nove i punti di vantaggio sul secondo classificato questa per stasera l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione arrivederci grazie a tutti